Doveva essere una vacanza felice alcuni giorni per ricaricare le batterie in sella all'amata moto visitando la penisola balcanica. Ma la mano, non sempre amica dal destino, incombeva dietro l'angolo. E per Claudio Tomat, 50 anni, dipendente del gruppo Danieli, e Erika Cantarutti, 48 anni, dipendente del Consorzio della Pietra Piazentina, marito e moglie, la morte si è materializzata in una lingua d'asfalto bulgara. Impatto violento contro un'auto che sopraggiungeva dal lato opposto senza lasciare di scampo. La coppia viveva con i figli, di 18 e 16 anni, a Orsaria di Premariacco, i quali tra qualche giorno avrebbero raggiunto i genitori in Turchia per continuare con loro le vacanze. La notizia della morte è giunta come un fulmine a ciel sereno che ha gettato nel dramma una famiglia e nello sconforto tutta la comunità di Premariacco, ancora sconvolta dalla tragedia del Natisone che il 31 maggio scorso l'improvvisa piena inghiotti tre giovani. Una famiglia rispettata e molto riservata. Tornando a sinistro, in corso gli accertamenti della polizia bulgara per chiarire le reali dinamiche e nello stesso tempo si sta predisponendo il rimpatrio delle salme in Friuli per celebrare la funzione religiosa per l'ultimo saluto e il comiato dalla vita terrena. Grazie a tutti.